Il trattato di Versailles fu firmato dai tedeschi il 7 maggio del 1919. Obbligava la Germania a cedere ai territori al Belgio, alla Ciecoslovacchia, alla Polonia, alla Danimarca. L'Alstazio e la Lorena, che erano state conquistate nel 1871 e annessa alla Germania, adesso ritornavano alla Francia. Tutte le colonie tedesche passarono ai vincitori. La città di Danzica veniva dichiarata città libera, la Renania veniva occupata e la Francia otteneva il controllo sulla regione della Sahar, importanti territori per l'economia tedesca. Il trattato inoltre obbligava la Germania ad assumersi la totale responsabilità dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e pertanto era condannata a pagare tutti i danni materiali causati dal conflitto. L'esercito tedesco venne limitato a 100.000 unità e il servizio di leva fu eliminato. Venne limitata fortemente anche la marina militare a non più di 10.000 tonnellate e anche l'aeronautica. La Germania si impegnò praticamente tra l'altro a pagare ben 132 miliardi di marchi oro, ossia 6 miliardi e 600 milioni di sterline che però per fortuna poi nel 1932 furono ridotti a soli 3 miliardi di marchi oro. Dopo questa coccente sconvitta nella Prima Guerra Mondiale le sorti dell'impero tedesco erano ormai segnate. In realtà già mentre le armate tedesche si ritenavano dal fronte occidentale i segni di una grande rivolta in Germania erano evidenti. Il più clamoroso di questi segni fu l'ammutinamento degli equipaggi della flotta di alcune flotte che si rifiutarono di uscire dai porti per tentare un ultimo scontro navale che ormai era senza alcun senso con la flotta inglese nel novembre del 1918. Un'agitazione rivoluzionaria percorse rapidamente la Germania e costrinse pertanto l'imperatore Guilhermo II ad abdicare. Crollava così l'impero tedesco e nasceva la Repubblica, proclamata il 9 di novembre del 1919 soprattutto sotto un'eccezionale spinta popolare. I partiti e l'apparato tedesco statale sul momento non furono in grado però di organizzarsi per bene e pertanto in questo periodo di transizione sorsero comitati rivoluzionari nelle fabbriche e persino tra i soldati, comitati che volevano un po' imitare i soviet rossi. Nel periodo comunque e in questo periodo comunque il partito più pronto e meglio organizzato per affrontare il difficile dopoguerra fu soprattutto quello dei socialdemocratici che però erano divisi al loro interno. Erano divisi in una corrente minoritaria e rivoluzionaria che venne subito espulsa e una corrente maggioritaria. La corrente minoritaria diede presto vita al partito socialdemocratico indipendente che praticamente era una sorta di partito comunista al quale aderì immediatamente la Lega di Spartaco con Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht che intendeva realizzare un programma appunto rivoluzionario di stampo sovietico. Fu comunque il partito socialdemocratico di allora guidato da Sklerman a formare il governo provvisorio. Caduto comunque l'impero il paese aveva bisogno di un profondo cambiamento, di una profonda democratizzazione della vita politica, era pertanto necessaria una nuova costituzione. Erano però contrari a questo nuovo corso democratico soprattutto gli spartacchisti che appunto si erano costituiti in partito comunista tedesco, erano molto forti a Berlino e nei centri industriali ma non nel resto della Germania dove erano deboli. Lo scontro tra socialdemocratici e spartacchisti fu inevitabile e i socialdemocratici si prepararono a questa prova di forza per liquidare un movimento che era ritenuto illegale. La situazione precipitò quando a Berlino venne destituito il comandante della polizia che era allora molto popolare tra gli operai e si diceva, si sosteneva che fosse anche vicino agli spartacchisti. La sua destituzione fu il pretesto per un'insorrezione ormai attesa organizzata dalla Lega di Spartaco. Per reprimere quello che appariva come un tentativo di colpo di stato non intervenne soltanto l'esercito ma anche un corpo armato di volontari nazionalisti che non facevano alcun mistero di odiare i comunisti. Si tratta dei cosiddetti corpi franchi. La violenta rivolta berlinese venne ricordata come la settimana di sangue e si svolse nel gennaio del 1919. La rivolta fallì e in quei giorni furono anche assassinati Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. La repressione si estese poi al resto della Germania ed ebbe e fece migliaia di vittime. Fermata questa sollevazione pochi giorni dopo si tenono le elezioni per l'assemblea costituente con suffraggio universale, elezioni che videro il successo dei socialisti con il 38% dei voti. Il partito socialdemocratico fu però costretto comunque a formare un governo con il partito del centro di orrendamento cattolico che aveva avuto il 20% dei voti ed anche con il partito democratico di ispirazione liberale. Una grande coalizione quindi. Hebert fu nominato presidente della repubblica e guidò quindi un governo di coalizione molto necessario in quel momento. L'assemblea costituente si riunì a Weimar per cui quel periodo storico venne chiamato Repubblica di Weimar. La nuova repubblica intendeva rompere con la tradizione imperiale militarista e fermare comunque anche i fermenti rivoluzionari ancora molto vivi in Germania. La nuova costituzione venne promulgata l'11 agosto 1919. Si trattava di una democrazia parlamentare, il capo con un capo di governo che si chiama cancelliera ancora oggi, nominato dal presidente e che è responsabile dei suoi atti di fronte al Parlamento che viene eletto ogni quattro anni a soffraggio universale maschile e femminile e che è incaricato di preparare appunto le leggi. C'è poi un'altra camera, quella formata dai delegati delle 18 regioni in cui era diviso il paese. La costituzione rafforzava anche i poteri dell'esecutivo. La nuova Germania, così nata, fu costretta ad accettare il trattato di Versailles che, come abbiamo già visto, era particolarmente duro. Questa decisione però scatenò le destre nazionaliste che organizzarono una campagna d'odio contro i socialisti e i comunisti accusati di avere provocato la sconvitta e di avere tradito la Germania. Si scatenò così un periodo di terrore che vide protagonisti i corpi franchi che fecero dell'omicidio politico lo strumento principale di lotta. Vennero assassinate allora almeno 400 uomini politici repubblicani. E' questo anche il periodo in cui Hitler nel 1923 tentò un colpo di Stato a Monaco di Baviera dopo avere appena costituito il partito nazionale socialista tedesco dei lavoratori. Il colpo di Stato però fallì miseramente. Hitler venne imprigionato. Doveva scontare cinque anni ma dopo solo un anno di carcere poter tornare libero. Un grave errore della Repubblica di Weimar fu quello di non avere riformato la macchina burocratica e giudiziaria e così la casta militare e vecchi potentati continuano di fatto ad esercitare un potere davvero enorme in vari rami della burocrazia e della società e costituirono sempre praticamente un corpo estraneo all'interno dello Stato democratico. Negli anni successivi il partito socialdemocratico però lentamente perse molti consensi mentre al contrario il partito comunista dal 2% del 1920 passerà nel 1932 al 17%. Questa scesa preoccupò notevolmente i partiti di destra. Gustav Streisemann, il leader del partito popolare tedesco di formazione democratico liberale, divenne cancelliere nel 1923 e formò un governo di grande coalizione con il centro e i socialisti. Questo periodo fu di relativa stabilità per la Repubblica di Weimar e fu anche l'inizio di una apparente ripresa economica. Venne accettato un piano americano per permettere alla Germania di mantenersi in grado di pagare le riparazioni di guerra e questo fu un fatto importante. Nell'ottobre del 1925 si giunse anche alla firma di un importante accordo, l'accordo di Locarno con cui la Germania riconosceva la perdita della stazia della Lorena a vantaggio della Francia, accettava la smilitarizzazione della Renania ma la Germania grazie a questo accordo non veniva più considerata come una nazione sconvitta ma come un interlocutore a livello internazionale. Fu persino ammessa nella società delle nazioni e firmò un patto di neutralità con l'Unione Sovietica, persino il disarmo venne bloccato. Gli ultimi cangellieri nonostante questi progressi non riuscirono a evitare che il governo parlamentare andasse sempre più sfaldandosi. Molti in Germania ritenevano che ci fosse bisogno di un regime forte per uscire dalla crisi economica e in questo clima si svolsero nel settembre del 1930 nuove elezioni per un nuovo Parlamento. Queste elezioni sconvolsero la situazione politica. Un neutrito trappello di deputati nazisti entrò in Parlamento. Il partito di Hitler ebbe il 18,3% dei voti. Non c'era più una maggioranza nel Parlamento tedesco. L'ascesa al potere d'altra parte delle forze conservatrici era già una realtà dal 1925 quando era stato eletto presidente il maresciallo Hindenberg che era sostenuto proprio dalle forze della destra. Era un monarchico convinto e il suo prestigio era legato ai ricordi della Grande Guerra. La Repubblica di Weimar cedeva sempre di più a tutto vantaggio delle forze e dei poteri occulti della destra. Un clima politico che insieme alle difficoltà economiche favorì l'ascesa di Hitler. Ma di questa notevole ascesa dei nazisti in Germania parleremo nella prossima lezione.